Una buona serata, ben ritrovati da speciale News Web 24 della sera, weekend sabato. Le scuole riaprono in tutte le regioni italiane, tranne che nelle trine colpite dall'emergenza coronavirus, quanto scaturito da un incontro avvenuto in mattinata alla sede della protezione civile. Dunque il Presidente Conte ha ricordato nell'incontro con i governatori regionali che sono state approvate misure di immediato impatto per le situazioni più critiche, tra cui anche l'imprevisione della cassa integrazione ordinaria ed in beroga. Dunque chiuse fino al prossimo 8 marzo le scuole in Lombardia, Emilia, Romagna e Veneto. Intanto è tornato a casa il 17enne di Grado, era stato bloccato per due volte in Cina. A causa della febbre va risultato negativo poi ai test per quanto concerne il coronavirus. Le partite economiche stimate, secondo fonti economiche, sono comprese tra il meno 1%, il meno 3% nel primo e nel secondo trimestre del 2020. Per quanto riguarda invece la provincia di Boggia, l'emergenza coronavirus ha fatto scattare una serie immediata di disdette arabiche nei principali hotel, in mondo particolare quelli del Gargano. Salve a chiuse calenda! Va bene, se preferisce così ne prendiamo atto e la cancello gratuitamente. La psicosi del coronavirus non risparmia nemmeno la capitanata, fioccano le prime disdette, soprattutto sul Gargano, da turisti provenienti dal nord. Quante disdette sono arrivate? Parecchie purtroppo, sono arrivate molte disdette, soprattutto dal mercato business per la mancanza di commesse nella zona, e dal mercato leisure soprattutto dai clienti più anziani, spaventati appunto dal nascente coronavirus. Intere comitive di pellegrini diretti a San Giovanni Rotondo hanno annullato le prenotazioni e si temono ricadute pesanti sulla Pasqua e i weekend primaverili. La preoccupazione di Confcommercio Foggia. Ma quello che ci preoccupa tanto sono le programmazioni dei gruppi, che iniziano da marzo fino a settembre-ottobre. Abbiamo già avuto le prime disdette dei gruppi di marzo, quindi speriamo che questa situazione venga ad una soluzione, perché altrimenti è devastante. Forse uno dei settori più trainanti in questo territorio verrà messo in ginocchio. Quindi speriamo veramente che qualche cosa si risolva e ritorni un po' di ottimismo in questa situazione. Dal Touring Club italiano arriva la proposta di sospendere la tassa di soggiorno. Io penso che come prima azione da fare sarebbe quella di rendere più competitivo questo paese, abolendo almeno per il 2020 la tassa di soggiorno. Penso che sia un grande passo avanti per far sì che i viaggiatori possano scegliere ancora l'Italia come più bel paese d'Italia. Purtroppo può anche essere che questo virus sia frutto dell'invidia delle nazioni a noi vicine. Passiamo alle notizie dall'estero. È stato firmato oggi a Doha in Qatar un accordo tra talebani ed americani che ha aperto la via al ritiro delle truppe americane dell'Afghanistan e pone fine a 18 anni di guerra. In particolare l'intesa prevede il ritiro delle forze americane entro 14 mesi. Il segretario della difesa americano, Pompeo, ha dichiarato che gli Stati Uniti non esiteranno ad annullare lo storico accordo se i talebani non rispetteranno l'intesa. Andiamo adesso alla cronaca. Serata movimentata a Borgo e incoronata nel Poggiano a causa di una lite condominiale che è scoppiata per utili motivi. Coinvolte molte persone, almeno tre, sono finite in ospedale. Ci è voluto l'intervento di un equipaggio della squadra volante per sedare la violenta lite che era scoppiata all'interno di un condominio. È stata un'emozione a sorpresa per il celebre maestro violinista Uto Ugi che ieri è stato a Poggia ed ha tenuto un concerto. E in più si è messo in evidenza nel raccontare la sua storia anche ai giovani della Città Dauna. L'intervista è di Enrico Ciccarelli. Tg Blu. A Foggia Uto Ugi, uno dei più grandi violinisti del mondo. Maestro, dalla sua lunga esperienza, che futuro vede per la musica classica? Beh, guardi, dipende moltissimo dall'istruzione che i giovani ricevono a scuola. Io questa mattina ho avuto modo di incontrare i giovani del conservatorio di Foggia ed è stato un incontro bellissimo. Hanno fatto domande interessanti, intelligenti. Io penso che i giovani italiani non hanno niente da invidiare quelli che vengono da fuori. E che noi in Italia non valorizziamo sufficientemente i giovani e non li aiutiamo, non li incentiviamo. E questa è una grave carenza del sistema scolastico italiano, che non fanno niente per la musica. Lei è sempre molto generoso nelle sue visite con i giovani e con gli studenti. C'è bisogno anche di altro? Per esempio, più musica classica in televisione aiuta, secondo lei? Beh, sarebbe fondamentale che i mezzi di diffusione trasmettessero anche la grande musica. Abbiamo la più grande tradizione nella musica classica in tutta l'arte. In Italia è al 70% delle opere dati nel mondo e la musica siamo stati i primi. E adesso stiamo diventando i fanalini di coda, causa la mancanza di istruzione nelle scuole. Un'ultima domanda che l'avranno già fatto sicuramente molte volte. Dei tanti brani che ha, stasera eseguirà anche brani di Ludwig van Beethoven, di cui ricorre il 250esimo anniversario della nascita. Il suo preferito, se lei dovesse scegliere un brano che si chiami Uto Ugi, qual è? È impossibile, come diceva un grande pianista Rubinstein. La musica che preferisco è quella che eseguo al momento. Bisogna credere a quello che si esegua. Ed eccoci alla pagina sportiva. Il calcio questo pomeriggio, la Lazio ha battuto il Bologna con il punteggio di 2-0 nel primo anticipo della settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Con questo importante risultato, i bianco celesti passano in anvetta alla classifica. L'emergenza coronavirus ha anche decretato il rinvio al 13 maggio di ben 5 partite di questo turno, tra cui l'attesissima Juventus-Inter. Oltre a questa, le gare fermate e che si disputeranno nel giorno citato sono Sampdoria-Verona, Milan-Genua, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Orentina. Mentre si giocheranno regolarmente il posticipo delle 20 e 45 di questa sera al San Paolo, tra Napoli e Torino. Quello delle 15 di domani pomeriggio tra Lecce e Atalanta e quello delle 18 tra Cagliari e Roma. E' tutto per questa edizione del nostro giornale di oggi, di weekend sabato. Grazie per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9 con La Domenica. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.